Forse andrà come singolo. Oh oh! All'eccoci qua. Skinner! Da Everglades di Florida. Skinner! Non molto popolare, a dire poco. E contro di lui non lo presento neanche. Non c'è bisogno. Questa entrata è solamente unicamente dell'Ultimate Warrior, ok? Qual se c'è uno più spettacolare di lui. Abbiamo già visto due. Ma per tutto carisma, fisico, bravura, spettacolarità, eccetera. Sai, c'è Ultimate Warrior, c'è Macho Man, Ric Flair, Hulk Hogan. È un gruppo ristretto di elite. Well, Skinner... Ma non sottovalutiamo Skinner qui, ok? No, 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 no. Skinner fa finta. Prega per pietà. Invece... Ma Skinner reagirà. Non può finire così. Skinner, suo primo grande incontro del WWF. non contro gli altri che perdono sempre. Questo si chiama Ultimate Warrior e Skinner, ok? Skinner in difficoltà, ma non finirà. Io non ci credo, ok? Non credo minimamente. Troppo facile finora. Non mi piacciono mai queste partenze di questa maniera. Skinner è anche un attore furbo. Finora non gli è servito, però non guai a sottovalutarlo, ok? Intonti... A quanto sembra? Well, io continuo a dire che Skinner avrà una reazione e ci credo, ma... Quando? Ah, ecco la danza. Troppo presto, Ultimate. Well? No, non ci credo. Oh, neanche una reazione di Skinner. Spazzato, mai visto un incontro all'altro livello di questa maniera. Grande delusione per Skinner. Ridimensionato in fretta, Skinner. Pazzesco. Neanche una reazione, già è una botta, qualcosa. Una presa, un calcio. Niente. Distrutto. Dall'Alton Warrior in quattro minuti di...